Un'intelligenza artificiale che, sovrapponendo immagini esistenti ad altre originali, crea video falsi ma estremamente realistici. È il deepfake, una minaccia per i personaggi pubblici quanto per l'informazione. Se ne è parlato in un convegno organizzato a Roma dall'Associazione Anica e, ai nostri microfoni, il presidente Francesco Rutelli ha spiegato i pericoli di questa tecnologia. Utilizzando delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale è possibile trasformare il comportamento, le parole, il pensiero di ciascuno di noi nel suo contrario. Al momento il 96% dei deepfake in rete è di stampo pornografico ma sempre più spesso vengono usati per attribuire false dichiarazioni ai politici come accaduto a Matteo Renzi con la provocazione di Striscia Notizia. Per ora però in Europa manca una legislazione che ponga un freno alla sua diffusione. Secondo Mario Morcellini, commissario autorità per le garanzie della comunicazione la prevenzione a non cadere nella trappola passa anche per l'educazione. Io penso che la prima iniziativa sia di tipo formativo e di discussione pubblica ecco perché apprezziamo l'iniziativa dell'ANICA di oggi ma la seconda questione è ovviamente quella di domandarci se ci sono immagini per una regolazione su cui il Parlamento dovrebbe essere decisivo. Grazie. 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 Grazie.